Un 2020 di disgrazie, devo dire, soprattutto perché abbiamo avuto anche tra le file dei nostri artigiani diversi morti per il Covid, oppure di conseguenza il Covid, magari con patologie pregresse. Gente che oggi non è più con noi, che di solito sta qui con noi durante l'assemblea, che è il momento più importante dell'anno, li ricordiamo, li vogliono ricordare con un pensiero a chi ha dato tanto alla propria famiglia, alla propria azienda, alla propria organizzazione e li ricordiamo con un pensiero veramente ampio. Ai presenti la voglia di ricominciare è tanta, la si vede dagli occhi che sprizzano, voglia di andare avanti, voglia di riprendere quello che si è interrotto con una guerra invisibile che però ha seminato tanti morti, tanto quanto una guerra vera. Nel 2020 e nell'inizio del 2021 le aziende hanno sofferto e ci sono ancora molte difficoltà con cali nella produzione e nell'export, ma la voglia di ricominciare è tanta nonostante i problemi vecchi e nuovi, come la mancanza di mano d'opera, la mancanza e i costi delle materie prime. C'è lavoro ma manca la gente e questo, a detta del presidente Massetti, è un paradosso. Nonostante ciò, Confartigian Alto Brescia ha chiuso in positivo il bilancio che è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria. Nonostante la pandemia, nonostante tutti i problemi, il 2020 è uscito con un segno più ed è l'undicesimo anno consecutivo, ci fa molto piacere, siamo riusciti a contenere i costi, siamo riusciti a fare tutte le economie di scala possibili e immaginabili. Il segno più è sempre un significato di buon lavoro, di buon auspicio e un po' di risorse fresche da utilizzare per la formazione del personale e per riuscire a dare ai nostri artigiani servizi migliori e più all'avanguardia. E in questo clima di ripartenza, Confartigian Alto è e vuole essere in prima linea. Confartigian Alto è sempre protagonista quando si parla di imprese, quando si parla di lavoro, stiamo sempre un passo avanti rispetto alle necessità delle imprese perché trattiamo direttamente con i governi, trattiamo direttamente con i ministeri, facciamo proposte, sottolineiamo le cose che secondo noi non funzionano e suggeriamo modifiche per cui presenti sempre sul campo in prima fila. Il 2021 è partito con un pezzo di pandemia, ce la stiamo lasciando alle spalle, speriamo veramente che sia la volta buona e questa voglia si trasforma anche con la realtà che è fatta comunque di tanti problemi che il post pandemia ci ha fatto trovare sul tavolo. Il riperimento delle materie prime, il costo delle stesse materie che è volato alle stelle, la mancanza di manodopera specializzata, cioè nuovi problemi che si assomano a vecchi problemi e fanno di nuovo capire agli imprenditori che devono essere oltre che resistenti anche resilienti, nel senso adeguarsi al nuovo che avanza, che non è tutto positivo. Però la voglia è talmente tanta, il mercato chiede veramente tanto a noi, alle imprese, che ce la faremo e ce la faremo ad affrontare questo nuovo periodo con un nuovo spirito e con un nuovo entusiasmo.